buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo della compilazione della domanda per partecipare al concorso ordinario 2023 daremo risposte ad alcune vostre domande domanda numero 1 chi ha la specializzazione sul sostegno può fare valere questo titolo nel concorso per il posto comune sì il titolo di specializzazione di sostegno oltre ad essere utile per l'accesso per i posti di sostegno può essere inserito in altri titoli valutabili per esempio della scuola secondaria di primo e secondo grado al punto b punto 4.9 vale cinque punti per ciascun titolo tale titolo può essere valutato anche per i posti comuni infanzia primaria al punto b 17 della sezione altri titoli valutabili e da sottolineare che non vale come ulteriore titolo per i posti di sostegno in quanto è titolo di accesso per tali posti domanda numero 2 posso inserire due titoli di dottorato di ricerca per il concorso per la disciplina in 0 27 quanti punti verranno valutati sì si possono inserire più titoli di dottorato di ricerca anche più di due per la scuola secondaria il titolo va inserito nella sezione altri titoli valutabili b punto 4.2 è il punteggio e 12,50 punti per ciascun titolo quindi nel caso specifico saranno 25 punti domanda numero 3 per inserire l'invalidità civile nella domanda per il concorso come si deve procedere nella sezione titoli di riserva al punto n invalido civile si deve selezionare per aggiungere la riserva indicando ente data e numero dell'atto successivamente sempre nella stessa sezione in basso si deve dichiarare di essere iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio di cui la legge numero 68 del 99 della provincia di chiaramente ognuno metterà la provincia in cui è inserito in questo elenco oppure dovrà dichiarare di non essere iscritto perché occupato alla data di scadenza del mando nel caso in cui non è iscritto perché occupato dovrà dire qual è l'ultima volta in quale procedura concorsuale o di gradatoria ha utilizzato questa riserva per essere diciamo occupato speriamo che le domande che le risposte alle domande che avete inviato siano utili a tutti i nostri telespettatori scriveteci ancora vi daremo risposta delle voce dei vostri dubbi delle vostre incertezze arrivederci grazie a tutti